Buon sabato 30 gennaio, Gesù attraversa il lago con i discepoli per andare nella terra dei pagani, continua il suo cammino sulla strada della salvezza e dorme a poppa mentre la tempesta intimorisce i discepoli, i quali lo scuotono, lo svegliano, e Gesù si irrita, comanda alla tempesta e alle acque di calmarsi. Torna la calma ma Gesù si rivolge ai discepoli predarguendoli perché non hanno fede e questo è un invito che è rivolto a tutti noi, presi a volte dai marosi della tempesta esistenziale che ci circonda, dimostriamo ogni giorno di non credere di essere sulla stessa barca e di essere guidati dalla fede in Gesù, che è parola che salva indipendentemente dalle condizioni che ci troviamo a vivere. Questa fede non è una fede cieca, è una fede ragionevole, intrisa di mistero certamente, ma la quale dobbiamo imparare ad affidarci per vivere autenticamente nella sobrietà, nella dimensione dell'amore anche nelle condizioni più difficili dell'esistenza, anche nelle condizioni che sembrano in qualche maniera consegnarci all'abbandono. Abbandoniamoci invece alla fede autentica e ascoltiamo ogni giorno nelle difficoltà e nella gioia la parola che salva. Affidiamoci a Gesù. Buona giornata a tutti.